Io giudico ben questo, che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, perché la fortuna è donna, ed è necessario, volendola tener sotto, batterla ed urtarla, e si vede che la si lascia più vincere da questi che da quelli che freddamente procedono, e però sempre, come donna, è amica dei giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci e con più audacia la comandano. Cicerone scriveva che la storia è maestra di vita. La storia insegna, ricorda, spiega i comportamenti e le ragioni che hanno spinto gli uomini a plasmare il mondo come lo conosciamo, ed è importante ricordare che non sempre gli errori vengono recepiti come tali, non sempre le tradizioni tramandate di generazione in generazione sono da considerarsi intoccabili, e soprattutto non sempre quello che credevamo obsoleto e superato svanisce davvero dalla coscienza popolare. Le persone vivono di tradizioni, e quella scabrosa e tristemente radicata della misoginia è una delle più antiche di tutti. Ne parlava già Esiodo attribuendo alla malvagia stirpe delle donne la colpa di ogni male, con il suo vaso di Pandora. Oppure Eschilo nelle sue tragedie, come Etocle nei sette controtebe, intonava lugubre, che non mi accada mai, nella buona o nella cattiva sorte, di avere al mio fianco la razza delle donne. O ancora l'ancor più celebre Achille, che abbatte un amazzone tra il giubilo degli opliti e dice, impara a comportarti come una donna. Come studentesse del liceo classico, proviamo un bisogno quasi morboso di scavare, con la passione di un archeologo in cerca di testimonianze, nelle radici del mondo, di trovare quel punto in cui si può dire che tutto si è cominciato. Ed è quasi sconfortante realizzare che, in questo caso, la misoginia sembra esserci sempre stata. Che cosa ne ricaviamo dunque da questo excursus apparentemente di ridondante? Da un lato, quello giovane, attivista e focoso che ci definisce in quanto adolescenti. Ci resta quasi un sapore amaro in bocca, quello dell'insoddisfazione, dell'ingiustizia, che ha sempre spinto le nuove generazioni ad alzare la testa. Dall'altro, quello curioso e critico che ci ha forgiate da quattro anni a questa parte. E ne ricaviamo una domanda. Perché? E soprattutto, siamo così convinti, dall'alto del nostro progressismo, che le cose siano davvero cambiate? Parliamo di tempi andati, di culture sorpassate, che paiono apparentemente solo al passato. Eppure basta davvero poco per scoprire la polvere sotto il tappeto. Abbiamo parlato di sentieri di brividi. Ora ci concentreremo su qualcosa di più percepibile. Un mostro che avvelena le coscienze e le rende inermi, condannate a vivere senza l'emozione su cui si basa la psico-umana, ossia l'empatia. La cloraca nera ne è pregna. Poche parole sussurrate quasi con noia, abitudine, come uccisa dal marito, dall'amante, dall'ex fidanzato. E tutto questo sfocia in altro, arrivano alle puglialate nello stomaco, all'acido versato dritto in faccia. Nessuno dà la colpa a una donna morta o stuprata, ma il tono accomodante dei giornali lascia sempre una sensazione di viscilo sulla pelle. Follia d'amore, non sopportava la separazione, l'amava troppo. Gli uomini ne escono sempre feriti, incompresi, tormentati da un sentimento incontrollabile che è sfociato in un momento di follia cieca, un momento solo. E le donne? Le donne di solito non ne escono, non sulle loro gambe almeno. Quando succede invece perdono un lavoro, vengono messe alla gogna, spintonate e malmenate dall'opinione pubblica, come sacchi da box, come se la tortura non fosse finita? Quando un uomo ha deciso che le amava troppo, quando ha deciso di prendersi qualcosa, il suo corpo o, ancor peggio, la sua vita. Femminicidio e misoginia viaggiano su due linee parallele. Uno dei due è più vecchio e radicato e ha dato la vita all'altro. Lo si può definire un tetro fratello maggiore. Procedono assieme ma, a volte, quelle più terribili si prendono per mano. In questa intersezione si riconosce un nodo, un groppo in gola, che modella alcune vite, in modo tale da far credere loro di poter dominare, schiacciare, decidere per altre vite. perché è già successo, succede e succederà ancora. È un discorso più grande di noi e va ben oltre la violenza di genere. Quella che vi abbiamo portato oggi è solo una sfaccettatura, il tassello di un mosaico più grande e di che la lunga più inquietante. La storia è maestra di vita e lascia cicatrici sotto la pelle. Magari non sempre le lascia a noi in prima persona o alle persone che ci sono vicine, ma lo fa. D'altronde è così che si scrive la memoria del mondo, lasciando dei segni. La pelle di chi ci ha preceduto ha fatto da tela. Verrebbe quasi da dire che la nostra sia ancora bianca, candida e vergine. Ma la realtà non ha mai un buon sapore. E la verità è che nell'istante in cui veniamo al mondo ci sarà sempre qualche goccia di inchiostro a sporcarci la pelle.